Con Cocciolive una gara che si è risolta, come dicevamo prima, negli ultimi minuti, ma abbiamo visto una grande soaveggia il Francavilla. La squadra in questo periodo sta giocando, sta esprimendo una discreta pallacanestra. Anche se in settimana abbiamo fatto un lavoro duro, che sapevamo che non era facile venire a vincere su questo campo. Certo, ce la siamo giocata fino alla fine. Se nell'ultimo quarto non avessimo sbagliato nei momenti importanti, cinque tini liberi, probabilmente la partita avrebbe avuto più incertezza fino agli ultimi secondi. Non dico vincere, ma maggiore incertezza fino al finale. Comunque voi siete una squadra che potete contare su nove giocatori, che tutto campo diventa devastante. Quindi sicuramente riuscirete da qui alla fine anche a recuperare qualche altra posizione possibile. Bene Cocci, in bocca al lupo per il progetto del campionato.